A Raffadali è stata rievocata la figura storica dell'arciprete Di Stefano, che nel dopoguerra partecipò all'occupazione delle terre con i contadini. Ascoltiamo in proposito il professore Enzo Di Natali, presidente del centro di bioetica Evangelium Vitae. Abbiamo voluto ricordare l'arciprete Giuseppe Di Stefano a Raffadali, nonostante lui per molto tempo fu arciprete di Santa Elisabetta, sul tema l'apostolato sociale in Monsignor Giuseppe Di Stefano. Perché? Perché l'arciprete Di Stefano fu un vero e proprio arciprete sacerdote sociale. Infatti lo vediamo subito dopo il secondo conflitto mondiale andare insieme ai contadini ad occupare le terre. Lo vediamo fondare anche una banca come la Cassa Rurale Santa Elisabetta. Lo vediamo impegnato nella realizzazione delle scuole dell'asilo parrocchiale per elevare il livello culturale della popolazione di Santa Elisabetta. L'abbiamo voluto ricordare con un convegno studi, qui ha partecipato l'avvocato Nino Gazziano, ha partecipato pure Totò Cuffaro, c'è stato anche un mio intervento. E tutto è stato anche coordinato bene con l'intervento dell'avvocato Giovanni Tese. Era una figura che era giustamente da ricordare perché i cattolici nel dopoguerra parteciparono all'occupazione delle terre per dare la terra proprio ai contadini.